Continuano ad aumentare nel Perugino furti, rapine, spaccio di droga e altri reati. Ne ha convinto il consigliere comunale di Forza Italia Augusto Peltristo, che tramite l'avvocato Valeria Passeri ha indirizzato una lettera ai ministri dell'interno e della difesa, al prefetto di Perugia, ai vertici locali delle varie forze dell'ordine, alla presidente della regione e al sindaco di Perugia. L'obiettivo è sensibilizzarli sulla questione della sicurezza e ottenere più uomini al servizio delle forze dell'ordine. Con questa iniziativa, inoltre, il consigliere si fa portavoce di tanti cittadini che sul tema hanno lanciato diversi appelli nel tempo. Tanti reati riportati nella missiva, l'ultimo dei quali si è verificato il 6 settembre, quando i ladri hanno sfondato con una pietra il parabrezza di un'auto in un parcheggio di Castel del Piano per rubare all'interno. Secondo Peltristo, i pensionamenti, la rinuncia degli ausiliari, la mancanza di concorsi, insieme allo scarso reintegro, negli ultimi anni ha portato a una deficienza di organico, riducendo sensibilmente il numero delle forze dell'ordine. Il tutto ha causato un calo della sicurezza che si avverte soprattutto nelle periferie più difficili da coprire da parte dei servizi di pattugliamento.